Answer Live, Europarlament News. Benvenuti in Europarlament News, in studio Camilla Di Collalto e in redazione Monica Diamanti. Lavoro no dell'Europarlamento a settimana di 60 ore. Nuovi standard di sicurezza dei giocattoli. Al presidente dell'Europarlamento Pöttering, il premio Colombo. La commissione lavoro dell'Europarlamento ha respinto l'intesa faticosamente raggiunta dai 27 paesi sull'estensione dei tempi di lavoro a 60 ore. Sentiamo da Bruxelles Enrico Tibuzzi. L'orario di lavoro settimanale non può andare oltre le 48 ore e ogni deroga dovrà essere eliminata entro tre anni dall'entrata in vigore della nuova direttiva europea. E questa è la linea adottata dalla commissione lavoro del Parlamento europeo che si è così messa in rutta di collisione con l'intesa faticosamente raggiunta dal Consiglio dei Ministri del Lavoro del 27 lo scorso giugno. In quell'occasione i paesi dell'Unione avevano dato il loro via libera alla possibilità per ciascun paese che lo volesse di optare per un orario di lavoro superiore alle 48 ore settimanali fino ad arrivare a un massimo di 60-65 ore. La commissione lavoro dell'Europarlamento si è anche pronunciata contro l'esclusione dei turni di guardia dal computo totale delle ore lavorate. Gli europarlamentari ritengono infatti che tutti i turni di guardia attivi o inattivi siano da considerare nell'orario di lavoro. Regole più severe per la sicurezza dei giocattoli, in particolare quelli destinati agli under 14 servizio. La commissione Mercato Interno e Protezione dei Consumatori del Parlamento europeo ha deciso di rafforzare gli standard di sicurezza per i giochi destinati ai minori di 14 anni. La direttiva, che sarà votata nella plenaria di dicembre, detta Criteri e condizioni per le emissioni sul mercato dei giocattoli, tra cui il rispetto della normativa europea sulla chimica, il REACH, qualora vengano utilizzate sostanze potenzialmente danose. Si riduce la presenza di sostanze allergeniche e si estendono le tutele contro i rischi di soffocamento ai giocattoli per i bambini maggiori di 3 anni, sotto controllo anche la fabbricazione di biciclette o altalene da giardino. Nuove regole, infine, per i giocattoli e i gadget inseriti nei prodotti alimentari. Il premio Vittorino Colombo 2008 è stato assegnato quest'anno al Presidente del Parlamento europeo Hans-Gert Pöttering. L'iniziativa premia ogni anno una personalità di livello internazionale che abbia contribuito alla diffusione dei valori autentici della politica. Secondo la giuria, Pöttering ha lottato e lotta per far comprendere come il rispetto di diritti umani, democrazia, Stato di diritto ed economia sociale di mercato, debbano diventare sempre più le autentiche basi di un'Europa che sappia superare di slancio la crisi esistenziale in cui versa. E per questa edizione è tutto. Appuntamento al 15 novembre. Vi ricordiamo che potete iscriverci all'indirizzo europarlamentnews.it Tra dieci giorni si terrà a Bruxelles la maratona dei 27 paesi dell'Unione europea per la riforma della PAC, la politica agricola comune, e l'Italia rischia di lasciare molto sul tavolo. Sentiamo cosa ne pensa Vincenzo Aita, di Rifondazione Comunista, membro della Commissione Agricoltura del Parlamento europeo. Noi corriamo dei rischi seri perché sostanzialmente già da una decina d'anni noi registriamo ogni volta che si mette mano alla riforma della PAC alcuni colpi che vengono a ridare. Guardiamo quella della bietra, per esempio, ci hanno spiegato che noi con le bietre avevamo un brick molto basso e che quindi non potevamo competere con la Germania e la Francia. E poi quando siamo arrivati sul vino ci hanno detto bisogna estirpare anche in quelle aree dove c'è un grado alcolico molto alto come la Sicilia, la Puglia, le regioni del sud. C'è un andamento volta per volta sulle cose e l'Italia, credo che anche qui fuori da qualsiasi schema politico non ha mai concepito l'agricoltura come l'ha concepito la Germania e la Francia come un sistema integrato e produttivo del proprio paese. Ma abbiamo visto i fondi europei come un assistenzialismo. L'Italia dunque paga il prezzo di non aver difeso il proprio sistema produttivo agricolo come avrebbe dovuto oppure di averne gonfiato i numeri come al tempo della riforma delle quote del latte. Oggi che si va a una riduzione dei fondi comunitari è chiaro che se io come Germania o come Francia ho un tetto di fondi europei X non sono disponibile a perderli. Difendo, cioè se dobbiamo ridurre del 3% in Italia riduco del 3% su 100% in Germania riduco del 3% su 1000%. Tra le linee strategiche della riforma della PAC sul tavolo dei 27 c'è anche la competizione del sistema e delle imprese agricole europee nell'ottica della globalizzazione. La logica è quella di competere con le grandi imprese agricole canadesi o americane abbandonando il modello della piccola e media impresa che è l'ossatura portante del sistema italiano. Poi c'è l'altro aspetto che è quello più preoccupante. L'idea è di competere con le agricolture extracontinentali cioè fuori dall'Europa con lo stesso modello americano, canadese, australiano. Cioè questa revisione andrà verso la direzione di difendere le grandi aziende perché pensano che solo così noi possiamo competere sul terreno. Io credo invece che noi competiremo se difendiamo la nostra tipicità dell'area dell'Europa. la nostra grande articolazione produttiva che abbiamo in Europa. Se pensiamo di fare i grandi farm in America noi non reggeremo la competizione ma ci adegueremo a produrre prodotti di massa e saranno colpite tutte le tipicità che l'Europa ha fatto in questi anni.